Basta una difesa. Punto vostro. 1-0 per noi. 1-2. Troppo lento. Ci sei, ci sei. Tieni i due piedi insati. Non stare su un piede. Nessuno può uscirci. Non è nessuno. Poi? 4-4. Non è oggi, devi imparare. 1-4. Match point. Certo. Andiamo. Batti con i bracciosti, magari cambia qualcosa. Non fare così, non c'è un po' di mare. Andiamo. Ci ho. 2-4. Prego Ilari. Stiamo tenendo conto che non si direbbe. Mi spiace. Nulla, va bene così. Attenzione, deve fare punto per forza. E' quella che dorme a male unite. Cambio. Fai un passo Ilari, non ti addormentare. 1-0. Fai un passo Ilari, non ti addormentare. 2-4. Porca puttana. C'è mancato la palla. Ci vedo da sola. Vai via da questo campo. Questo non penso di averlo mai visto. 1-0. 1-0. Non puoi ricevere posando un ginocchio. Non funziona mai. Mai. Non ha mai funzionato con nessuno. 2-1. 3-1. Colpendo la palla, la palla va di là. E' incredibile. Se la manchi non va di là, se la colpisci va di là. E' pazzesco. E' incredibile. Ho fatto qualche volta, non è quello dell'esercizio. Non pensavano che 104 potesse fare queste cose. E' giusto. 4-1. Non mi sarei mosso neanche io. Gamba sbagliata alzata. E' infatti. 5-1. Cambio. Se sbagli la gamba rubi il tempo di rincorso all'esercizio. E' in due. Lei non si può preparare prima. Non è predisposta. Ecco. Lei deve ricevere e attaccare. Quindi se tu sbagli la gamba, lei non può farci niente. in quel caso. Una volta faccio finire. Battuta. Grande battuta. Tu devi mettere la gamba destra davanti. Non ti dico che mi fai la gamba? La gamba giusta davanti. Quanto ce l'hai, ci hai fatto il 90 per cento. che dici c'è della differenza c'è della differenza no non c'è la differenza tra l'attacco in rete e l'attacco riga sulla riga non c'è la differenza io sto parlando con un morto oh questo è bello 2-1 3-1 non devi agitare la mano è un gesto fluido lanci l'impatto e lasci la mano lì lascia un passo alla mia videocamera trovatene una tua te e quell'altra l'incoglionita 3-2 grande battuta attenzione lì ti devi buttare in terra se non la parla non c'è per prendere 3 pari è tu Alberto brava Annalisa sei molto lenta però a scansarti 3-4 c'è proprio imbarazzantemente lenta 3-4 match point per la squadra terzaria e vincono per la squadra terzaria e la prossima non facciamo non facciamo 3-4 8-7 8-9 9-10 10